Allora, cosa dovevamo giocare oggi? Come? WWE? Ah, WWE, ce l'ho installato. Nessuno deve giocare, tecnicamente. Dobbiamo fare extreme rules oggi. Quindi, cosa facciamo? Tutto extreme rules, visto che il prossimo è extreme rules. Questo triple threat. Chi ci mettiamo, ragazzi? Dobbiamo mettere delle persone che si sono viste poco ultimamente, che lottando hanno il posto di diritto nella batteria. Delle persone quelle un po' in sordina, dobbiamo mettere. Ma le cornere il misterio con questa prospettiva? Seleziona il match per il titolo. Un titolo. Eh, fai... anche qua fai... Ah, perché ce l'aveva l'asino di merdaccia l'ultima volta. Ah, quindi rimane a lui, è giusto. Certo, vediamo se glielo ci... Cazzo, però allora ci dovrei mettere l'asino di merda, eh. Benvenuti! No, non lo vedete voi? Mi si sta rompendo il computer? Da me sta caricando normalissimo. Io vedo dello sfarfallamento delle texture bestiale. C'era un po' di... Ah, è finito lo sfarfallamento. Posso continuare? Forza, forza. Benvenuti nel... Main... Nel... No, prima del main event c'è questo. Del Thermoverse. Il match di apertura del... Extreme Rules del Thermoverse. Che paura, ragazzi. Bologna Italy. Bologna Italy. L'audio è così alto, ragazzi. Non vi si sentirà e non posso farci niente. Sì. Eccolo l'omino della pizza. Chiara. Si è abbassato tutto? Sì, l'ho abbassato dal mixer di... Eccolo qua, il nostro campione in carmine. Chissà se finirà subito. Teoricamente non dovrebbe essere scistore. Cioè l'asano di memento dovrebbe massacrarlo. Non l'è detto, Gleza. Guarda che potere ai piccoli. Eh, guarda che... La malattia è una brutta bestia, comunque. Tanto guarda com'è sta per fare un assolo protofluido, eh. Niente, è già morto. L'omino è già morto. Eh, togli, togli le... Ne approfittavo subito protofluido. Attenzione, ma cosa ha fatto? Attenzione protofisting. Lo prende, lo tira su, di morale naturalmente, con la sua musica. L'omino si è reso conto che non c'è bisogno che combatta. No, si controlla il pannolone e prende a pugni protofluido. Io quasi tifo... Io tifo l'omino della polmonite, via. No, io protofluido. No, io ho sempre il campione. Qua non c'è storia, secondo me. Intanto l'omino è morto, quindi rimangono le persone. Vediamo un attimo. Si tocca schienare qua, il primo che schiena la vince. Attenzione! Aia! 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 E quante? Basta! Oh! Ma fermatelo! Polizia! Ma polizia! Fermatelo, è morto! E lui dovrebbe vincere? Ma è fatto di mentana, lui. È un po' plebile, allora. Aia, pure la spalla è andata. Aspetta, che ha preso un paolo! Glielo tira nelle caviglie al... Sarebbe l'antiglieria, bravo! E adesso lo prende lui. Sì, però se esulti ancora prima... Eccolo qua il piede, guarda. Che figura di sandalo. Il lascia a scadrare tra di loro. Omino, per favore, fai qualcosa. Poi si è fatto male alla goglia. Aia! Fluido! Che ha fatto cadere la sedia su... Pisello di polmonosi! Non è così, non è così, no. Cosa fa, ciuccio? Erano dieci colpi di memento, è vero. Aia! Bravo, approfittane! Amico, bravissimo! Otteria! Aia, approfittane! Guarda la sedia disolta. Attenzione, forse si vuole disabilitare. Oh, si è reso conto che serve mostrare un po' gli attributi qui, eh? Ma come ha fatto a fare questa cosa? Voglio farla anch'io, quella roba lì. Primo che va in quell'angolo lì, muore diretto proprio di culo. No, che pugno nella testa! Cosa è successo, ragazzi? Qualcuno salvi la pelle. L'ha tirata via, ma dai. Ci vorrebbe un pronostico, in realtà. Eh, però ormai è tardi. Per quello dopo lo facciamo, eh. Per adesso fammi il sondaggio. Eh, è sulla sedia, eh! Ho le maniunte. Avete un minuto di tempo, fatemi pure il fatto. Mazzio, ragazzi, è scivolato via come un olio. Ancora c'è quel tavolo lì, ma inutilizzato. No, sì, sì. È l'impostore dei termosifoni, Prato Fluido. No! Per eccellenza, proprio. Quanti salti? È la Tribute Band, Marco. È morto, è morto. Oh! Oh, è buono, vedi Alberto! Guarda che vince lui. No! Guarda! Vero della pallettonia. E attenzione, adesso muore. Niente, è morto definitivamente. Bestia, morta. No, ha preso il Kendo P... No, del pallo! Ahia, l'ha spaccato perché c'è il Kendo P durissimo! Al pisello durissimo, quindi gli si è spaccato il Kendo Sticchio. Ahia, l'ha schiacciato. Eh, ha vinto. Col cemento. E ha fatto l'ulti. No! Ha fatto l'ulti, ragazzi. Ma che scambio, ragazzi. Si mantiene campione. È impossibile batterlo, ragazzi. Anche se abbiamo sbagliato, doveva metterlo nel match dopo l'asino di merdaccia, però. La Contessa contro il Conte. Ah, siamo a Contessa contro il Ponte. Siamo a Torino, qua. Giustamente, il Conte e la Contessa sono... Ehi là! Abbiamo mai visto il suo ingresso. Ma è coso è comunque lui? Michael Douglas. È Michael Douglas. Ma che panza c'ha, poi. È sempre una panzetta. Ah, è un berghese con la carne rossa. Ecco, la nostra milfono preferita. La nostra golosa. Mamma mia! Ma cosa fa la danza del velcro? Sì! È schifo! È schifo, ragazzi! È schifo! Oddio! Dai, forza Contessa! Ma è un barbiere, Conte, comunque. La Contessa, col suo tuffo a culla... Maurizio! No, si è incastrata l'ascella, si è tirata i peli! Allora... Ahia! È incredibile il nostro amico del KFC. Gli ha tolto le unghie. Ma non c'entra niente con... Colonello Giuseppe. ...Generale Comic Day. Ben da cazzosa, eh! Ben da cazzosa, eh! Special! Eh! Che fa? Ma che fa? Ma che fa? Mamma mia, è orripilante. Quasi tipo per il fondo. La signora in grande, qua. Cosa fa? Mette il piede lungo. Ma sotto alla bandiera della Svizzera. Perché? Io vedo solo un'enorme droga. Sotto le scarpe, vedi? Ma attenzione, la pibra. Attenzione, già potrebbe chiudere il match. No. Disperata, però. Continua la metaglia di sottomissione. E giustamente, se non sottomette... Ma gli ha stato il bravi. Io ho visto l'osso uscire fuori. È certo! Ma è morto, sta dormendo. Bisogna dire che se non sottomette la Contessa... Eh no, lei deve sottomettere, effettivamente. C'è Conte... Oddio! La pulata? Eh sì. Chissà se farà la sua finish alla Contessa. La più sì, più sì. È quella? È quella lì. Eh! Dopo la vedi. Che succede? Gli sta facendo solletico? Ma cos'è questa mossa ridicola? No, gli fa solletico. Cosa fa? La sballa, la scuote. Di Oster! La scossa molto, a quanto pare. Prova a schiena a marlata, insomma. Ahia. Si è strappate le mutande, ragazzi. Vedo una chiappa. Meno male che ha coperto. Vediamo il Conte Giappone, cosa fa? Secondo me manca, secondo me manca il bersaglio tantissimo. E invece ha proprio il seno duro. Eh, non è... Non è frotto, allora. È un po' imbottito, sì. Aia, aia, aia. Ma gli ha rotto gli occhiali, questo maiale. Il termosdilli. Che fa col sandale? Ma si è rotto la sandale. Marco, hai tastato? No, è un'amica la Contessa. Non abbiamo mai fatto niente. Che dolore. Che dolore. Attenzione! Due. E vince il Conte. Così. Eh, ma si sa. Ti fa assolutamente un'altra. Eh, ma lo sai. Perché la Contessa è una signora passionale, quindi... Ma tu, lei, se c'è, donna... Però guarda come balla, eh. Però guarda come balla. Lei non è a problemi. Animale. Balla questo schifoso. Guarda, guarda come balla il Conte. Qua chi ci mettiamo, allora? Questo è il... Casimiro. Main Evento! Alla giapponese l'ha detto. Mi fa ridere perché c'è il pugno alzato. Facciamo tutti con i pesi massimi, tutti i pesi massimi. In realtà sta facendo il tromba-tromba. Uno piccolo ne metto, però. Eliminazione, invece, che è l'ultimo che rimane... A me piace, però, come idea. Eh, perché può durare anche un pochino di più. Sennò il primo che pinna vince. Dai, dai, ci sta, ci sta. Dai, proviamo. Proviamo. Ma è proprio brutto di faccia. Com'è fatto a farlo così brutto, non lo so, eh. È veramente fatto benissimo. Sì. Ma che bello che è. Ma non abbiamo mai visto le entrate loro, no? Non di tutti. Alcune, sì. Ma guarda che brutto, non chiude mai gli occhi. Mi fa impressione. Per forza è un adesivo. Mi fa impressionissimo. Mi fa non chiude mai gli occhi. È terribile. Con quegli occhiali sciolti nella faccia. Si guarda in giro con questo sorriso. Non è possibile guardarlo. Questa l'abbiamo vista prima. Ma come zucchero? Chi è che è ruolato zucchero? Ma si è da zucchero. Ah, arriva, eh. Il sole, questo. Guardalo, guardalo. Che schifo. Eh, schifo è l'asino di ciolla. Sì, questa l'abbiamo visto. L'asino di ciolla merda. Zitto, che non sei il campione discusso. Fatemi togliere... Ho schippato tutto, ho schippato. Ma va bene così. Siamo partiti, ragadi. Filippo ha già preso una testata. No, Filippo è già stato spaccato a metà come un... Se l'opina già adesso. Come effettivamente l'abbiamo sempre tornato spaccato a metà su viscia. Eh, comunque l'abominevole non è così grande. No. Infatti la sta prendendo... Cioè, sono bull. Cioè, quelli grossi si stanno coalizzando per essere bastardi. Etto, poi ci pensiamo a noi tre. Intanto ammazziamo gli altri. Cosa corre? Dove va? Non sa dove infilarsi. È pazziato, non sa cosa fare. Attenzione, Filippo si rialza. No, mi hanno censurato il Filippo. Ah, è caduto tanto, quindi... Ahia! Il trenino passa con le rotaie sopra l'uomo di bava. Il trenino e l'asero si sono coalizzati, ah, comunque. Sì. Eh, attenzione, il sole se la prendono tutti con l'uomo della bava. Filippo cerca di prendere il pannolone. No, guarda, vanno su Filippo. Sì, niente. È incredibile. Filippo, su! Attenzione, oh, però... Il trenino calcia il sole che lo butta fuori. Ma l'uomo di bava caga... Guarda, Filippo! Eh, no, è caduto. Adesso non guardare. Mi sono perso il sole, mi sono dissaturato. Non è finito. È la dieta. Come si chiama? Filippo... Filippo lavora di gesta, di testa. Glielo fanno fare... Glielo fanno fare... No! L'asino di memento. Guarda l'asino di memento, spezza in due Filippo. Ma sopra il mardello! Il nomino della bava sta massacando solo. Oh! Il trenino Tudor! Ma gli stanno schiacciando la testa! Polizia, poverino! Carabinieri, chiamateli! Aia! Ma gli stanno schiacciando la testa! Ma Filippo si rialza, forse ne approfitta? No, il pannolone gigante nel culone! E' eliminato l'uomo dell'Alberto! Guarda Filippo, guarda Filippo! Fuppone! Gli toglie... Guarda che lo pinna, eh! Gli toglie i bulloni, gli toglie! Eh, ma non va bene! Eh, ma non va bene! Qui c'è stato un broglio, eh! La Spear mi fa! Ma lo specchi in due, lo specchi! Attenzione! Era sottile, non ci ha preso! Eh, no, era troppo sottile! Era troppo sottile! Oh, lo pinna, lo pinna! Secondo me non ce la fa! Uno! Due! Il sole aveva ignorato completamente la scena! Eh sì, perché tanto chi gli frega a lui! Tanto c'è l'asino di Memento che si sta riposando! Anzi, un avversario è meno! C'è una maglietta verde! È vero! Sì, stai dicendo, no, ce la devi fare! Attenzione, ragazzi! Una submission! Come fa? Oh! Lo vuole pinnare a tutti i costi, Filippo, eh! Due! Ma è incredibile! Filippo! Il filetto ha... Che filetto! Beh, l'aroglia rambola è fortissimo il treno, Marco! Ha avuto una defiance! Forse era amico di Filippo, non ce la faceva! Quella sincronia! Che sincrono! Attenzione, Filippo! Eh, prende una gomitata dentro la pupilla, proprio! Prende il tavolo! Vediamo se sarà utilizzato questa volta! Intanto la sua mossa... Ah, è incredibile! Dai, falloppio! Attenzione! Uno! Due! Mazza, miseria! Oh, ha fatto! L'asino stava facendo fare, giustamente! Cosa? Flexa! L'asino flexa! Capavia, Filippo, soddisfatto! Sì, sì, sì! Ah, il candlestick! Eh, vabbè! Attenzione, la mossa finale sul sole! No, onderone! Reggirà? Filippo, reggirà? No, lascia fare! Lascia fare! Ha lasciato fare! Eh, sì! Uno v uno! Filippo vincerà il match! Contro il campione del Pongo, ragazzi! È veramente The Giant Slayer, lui! Orca troia! Questo che l'ha spaccato nel coppino! Bello! Eh, sì, l'ha fatto, allora! Ma, ha mancato, ha mancato l'uovo! Attenzione! Cosa fa? Ha mancato l'uovo! Impazzito! Cosa fa? La sua mossa non riesce, ragazzi! Se lui è di gomma, Filippo è di gomma, non riesce! Guarda, guarda! È niente! Guardalo! Guardalo! Purtroppo, Filippo è di gomma, non riesce a fare niente! Tutto dondolate! Attenzione! Forse! Ma il sampone là sopra, cosa fai? Il santone del Julian è andato! Attenzione, potrebbe... Eh, basta! No, mai non è! È di gomma! È di gomma Luger! Cioè, si comprime e ritorna su, Filippo! È incredibile! È di gomma Luger! Aia! Questo martello è indistruttibile, comunque! È anche contro il cemento! Eh, basta! Non da presa! Cos'è quella mossa? Vuole perdere, vuole perdere! E l'altra volta ci ha vinto con l'altro match, ha vinto con quella mossa! No, no! Mello! Guarda che Filini è un caso marzo! Sì, è pazzesco! Cosa lo strascina! Guarda come riesce a spostare... È fortissimo, ragazzi! ...6 tonnellate di memento! Questo Filippo! Giustamente, Filippo sta facendo valere l'età! Perché lui è nato molto prima degli altri! Certo! Non è vero! Cioè, sì, è vero! Sì, sì! Assolutamente vero! Vince, canzone? Uno... Due... Ma ragazzi! Filippo! Filantropo! The Giant Slapper! Ragazzi, chi ha votato il 7%? Guarda che piccolo che è! Ragazzi, è il campione in carne! Era col numero 3! Non è in carne, assolutamente! È questo! Ciao! 인ro Grazie a tutti.